Buonasera a tutti, per i pochi ascoltatori che ci seguono siamo quasi pronti ragazzi per una puntata extraordinaire del Gracco e Pagano Show, siamo tornati da quel di Milano con un forziere di fantasia e stasera ve lo riproporremo, qui abbiamo alle nostre spalle pagano che rischiava di fare il Pagano Show stasera, che poteva essere che avesse condotto lui la puntata, il che era anche una cosa molto carina e piacevole secondo me, secondo me sì, comunque avevo bisogno di tanta acqua stasera, pensate, come faccio il Pagano se lo faccio io, come pagano? Molto bene, molto bene, siamo alle prove tecniche ragazzi quindi ci siamo quasi, adesso Alessandro visto che noi dobbiamo farvi vedere i nostri check in progress, Alessandro è alla postazione per capire se stiamo in onda o stiamo parlando come degli imbecilli, da soli, ok? Tonto, tonto Tonto, tonto, tonto Mauricchio 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 prova provola provola 1, provola 2, provola 3 Già iniziamo? Via vai? Te va a tenerti Cortesia Te va a tenerti Stiamo in onda? Allora facciamo l'anteprima, la sta? Beh qua, beh Favamo l'anteprima Maria Vogliamo far silenzio alla galleria, al cortesia? Alla galleria, silenzio Tirentio Allora, eh, vogliamo fare qualcosa lì? Cacciarli fuori? Cacciamoli via, Mike Quanti anni fa? Ce l'avevamo l'ultima volta? Eh, credo che era un giro Mike Giro Mike, quindi sarà agli anni 30, no? No, credo che era il 1869, se non sbaglio, è 69 e 70 Eh, tarati, devo chiedere a Maria Maria, te ti dai a conto, chiamati, eh Mi raccomando, eh, Maria Ricorda di quanto Mike ha fatto il giro Mike Come ti chiamava il giro Mike? Si chiamava il giro Mike, giravamo tutta l'Italia E chi c'era? La Valletta, chi era? Timona Eh, Timona Timona, Timona Ventura, no La Valletta, Timona Ventura No, Timona, buona te, vieni qua Timona Timona, vieni Timona Eh, Timona, come ti vogliamo? Salute a tutti ragazzi Ciao Come ti chiami? Timona Timona, bene Timona, grazie Grazie Grazie, Timona Eh, abbiamo fatto la prova, eh Stiamo bene ancora di testa Quindi a chi ci ha seguito da casa Ancora stiamo bene di testa Fine anteprima Ci vediamo tra 30 minuti Circa Eh, quindi Stay with us Gracco e Pagano Show Lietamente Tornati Nelle vostre case A dopo Ancora stiamo bene di testa Ancora stiamo bene di testa